Marco! Marco che gioco a Fortnite! No, andiamo all'acqua, è meglio, dai. Comunque, penso che tutti sapete la mia nuova skin, questa sarà una delle mie skin preferite. Non è vero Marco? Che io la userò sempre, sempre. Perché è bellissimo, non è vero Marco? Marco, sapete quel set tipo quello con le cuffie? Questa skin è il maschio del set di quello con le cuffie, se non sbaglio, non è vero Marco? Sì. Ed è... No, pistolino mio! Faccio uno! Mazza, quante persone Marco vivi, vivi, vivi. Non dobbiamo morire. Ok ragazzi, speriamo di fare la vittoria reale. Perché noi siamo molto forti a Fortnite. Non è vero Marco? Ho la pistola a razzi per perquisire i nemici Marco? Comunque, apriamo qua. Niente. Speriamo di vincere, ragazzi. Comunque, vedete tutti i miei video, sono molto belli. E c'è un... Il video precedente è stato molto bello, partite a squad con Melissa. No, volevo dire partite a squad riempi. E abbiamo detto, ed eravamo in compagnia di Melissa, e abbiamo detto, aspetta, abbiamo detto che a 10 mi piace in quel video e faccio giocare a Melissa a Fortnite, non è vero Marco? Ho c'è uno! Uno qua! Si, aspetta? E ma come non lo prendo? Vabbè. E Marco, da me c'è uno! Ok, dammela, tu tieni il coso. Babbo, vai, vai indietro. Veramente la mia skin sembra pure un autista, non è vero Marco? Ok. No, tranquillo, ne ho già un pochino, dai. Vieni a me, Marco. Oh, persone, persone, persone. Attento, Marco. Persone. Un chitto, un chitto. Preso con l'auto. No, 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 c'era un altro, c'era un altro. È quello della Siso 4. Dopo fa tagliare la Siso 4. È l'altra, la sua amica, la sua amica. È da te. Vieni, Marco. C'è la sua amica. Te l'ho detto, c'era la sua amica. Vabbò, dai. Come prima partita ci può stare. Ci può stare. No. Mettili pronto. Perché questo video si deve chiamare partite con Marco. No. Non vuoi... Comunque, se vi piace la mia skin, compratevela, costa... è uscito oggi nello shop e costa 800 V-Bucks ed è bellissimo. Non è vero, Marco? Speriamo che Marco apra una skin molto bella. Comunque, Marco, metti pronto. Ragazzi, ve l'avevamo testi tantissimi. Ora Marco si metterà la skin del rapace. No, più che altro. Marco, metti quella skin del ghiaccio. Rapace del ghiaccio. Dai, quella è troppo bella. La vogliono vedere tutti che giochi con quella skin. Mettila. Mettila. Che hai abbandonato. Marco è uscito. Paccio! Ed ecco la skin di Marco. Due, uno, vai. Marco. Ed eccola. Qua! Dai, dov'è, dov'è, dov'è? Ma, ma ti sei messo il bidro. La sua skin invece? Marco, quella che vogliono tutti, qual è? Marco! No! No, il mammut. Dai Marco, qual è la skin che vogliono tutti? Il rapace del ghiaccio. Mettilo. Dicono che sei un pro con quella skin. Ce la metti. Ed ecco la skin di Marco. Mettila pace. Mettila. Mettila pace. Come no? Controlla tutte le skin. È possibile. Mettila pace. Lui va mine. Mi piace? È libera che è sottile. C'è Jamaica. Di 不ostora le storesole. Ruiz. können abbiamo. Mi l' referencedo. c'è la sanità. Ci. Ci sono bimbiahah. John Marco, quello che hai messo prima che sembrava questa skin facci vedere tutte le tue skin vogliamo che giochi con quella skin se no tutti ti dicono no no era accanto a lui se lo sbaglio metti sì eccolo qua ragazzi metti pronto con il rapace del ghiaccio vai metti metti questa skin è bellissima vai vai ragazzi con queste due skin facciamo la vittoria reale non è vero Marco sì pure il mio guarda sono uguali sono tutti e due tastisti ragazzi siete pronti questa sarà la partita più bella più bellissima perché faremo la vittoria reale non è vero Marco ma boh ma eccolo ci sono due skin che è difficilissimo da prendere no davvero ah no non l'ha messo ragazzi perché grazie a Dio per me è la stessa skin tipo quale no comunque andiamo al lago languido per fare più kill ma languido eh no così moriamo ancora speriamo che Marco si sente in questo video perché può essere pure che non si sente non è vero? grida aspetta grida al massimo e vediamo se si sente grida ok e io sono andato qua per uccid... no 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 da me ci sono mille persone perché sono andato... si ora io che sto morendo e tu dici c'è una ferrari ragazzi marco è come se gli hanno dato una skin gratis che marco gli hanno dato una skin gratis non penso proprio e c'è uno a scuola che sta morendo allora è la ferrari che sta oh la galaxi la galaxi porca miseria è quella galaxi no mi ha ucciso mi ha ucciso una nabba vieni vieni marco che fai là fuori marco sono morto marco vieni no no non l'uccidere e no vattene vai da me vai sto per morire consuma tutto il carburante vai veloce con l'avo premio te l'ho detto che se premio ma più ve lo prendimi la scheda si trova sopra il palazzo che fai che fai mazza ora muore ma perché è bildi è meglio che la e ora fa così ragazzi ci scommettiamo che muore vai sopra subito che fra poco finito spamma con la mitaglietta quando vedi qualcuno vai sopra sopra no marco se mi finisce la scheda no marco basta mi sta finendo vai vai sotto vai sotto vai sotto vai sotto vai sotto non farti scoprire bravo curami subito curami subito ti consiglio così non moriamo eccola no dai facciamo un'altra metti pronto ragazzi non andiamo in un posto dove facciamo tante kill dai e da tanto che non andiamo a borgo sai andiamo a borgo ma hai la skin del nabbo questo io sto vedendo uno che ha la skin del nabbo dopo ti guardi il video la skin però è quale è il bombarolo lucente ma quella fa schifo si da fortuna ragazzi qua sotto nei commenti dovete scrivere hashtag marco innamorato no dai no marco dai resta ma che dici marco stiamo facendo un video resta no dove andiamo e vabbò siccome a borgo non ci possiamo andare a corso la c'è un po' di gente marco davvero dai vai buttati che perdiamo il treno che perdi il bus vedi e dopo moriamo tutti si si auto volante marco però quella è l'auto volante tipo dicono questo è un'auto volante scusa era illegale lo sai che hanno tolto un bug un bug la epics la epic tipo che c'era un bug che potevi fare volare i camion dovevi mettere la benzina nella scala e facevi volare i camion che era bello ti giuro era bellissimo dopo l'hanno tolto questo bug tipo ora cade la benzina non puoi più ma pericolino c'è uno c'è uno sento sparire sento spari sento spari sento spari spari sento proviamoci pure io ho trovato un'auto io l'ho già fatta per giusto sì l'ho già fatta l'avevo fatto in un altro non era in un bio oh Marco questi qua smetti smetti di guidare ci staccano tutto te l'ho detto e ci spaccavano tutto io devo uccidere questo qua sopra il tetto ma come hai smettato intanto sono morto pure io no oh mio uccidanti no mi hanno ucciso Marco vabbò il video può finire così ciao speriamo che ci sente Marco vi saluto Marco comunque saluta in alta voce in alta voce ciao io ciao 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 ciao